Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, diamo insieme uno sguardo al tempo previsto in Europa per questo giovedì ancora alta pressione alle alte latitudini europee e qualche pioggia sparsa sulla Mitteleuropa e in parte anche sull'Italia. Infatti nel particolare della nostra penisola piogge sparse soprattutto al nord in parte anche al centro occasionalmente al sud e allora entriamo insieme nel particolare partendo proprio dal nord Italia, piogge sparse soprattutto al nord est Emilia Romagna parte della Liguria ma giù di schiarite ad ovest. Al centro anche qui ombrello da tenere occasionalmente a portata di mano, maggiori aperture sul versante adriatico. Infine al sud qualche pioggia sparsa soprattutto sul comparto tirrenico in parte sulla Sicilia nonché sulla Sardegna orientale. Per aggiornamenti scaricate la nuova app di Trebi Meteo.